Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video Quest'oggi come potete vedere siamo di nuovo su Fortnite come ogni venerdì E andremo a fare la modalità 50 contro 50 Vi dico solo che prima abbiamo registrato un'altra partita che purtroppo non vedete Dato che ci sono stati dei problemi, tipo il telefono che si è spento Dato che sto registrando la webcam col telefono e penso che si veda molto bene Abbiamo fatto una vittoria reale, ho fatto pure la kill finale quindi di questo me ne vanto Comunque oggi cerchiamo di fare un'altra vittoria reale E niente, prima di cominciare, con Marcio in sottofondo, grazie Marcio Volevo appunto chiedervi di supportare al massimo questa serie Dato che non sta andando proprio al massimo Vi chiedo semplicemente quindi di condividerlo con i vostri amici E cercare appunto di far arrivare a risultati ancora più alti questa serie In modo da continuarla Detto questo, direi di non perderci un'ultima di chiacchiere e di cominciare Ah, e trovate il canale di Marcio in descrizione E' contento perchè l'ho spammato Direi di andare a spawn, dai Guarda le quanti app in Napoli Guardi, guarda Secondo me andiamo a parco pacifico Andiamo a parco Andiamo a parco, dai Cioè, ma perchè non facevano una 49 contro 49 Anziché una 48 contro 50 Perché i server partono anche da 98 player Quindi... Barilotto è quello grosso Quello grande Eh, gli piace grosso, eh? Grosso Quello grosso Più grosso Ok Il problema è che io... Il problema è che io... Ok, il problema è che resta sempre che io... Non so dove... Anche siete lì, siete lì Sì, che bravo Siamo qui, siamo qui a campo da calcio Campo di Baripecchia? Dai, immagino... Là ci sono le signore Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda E non è che vette qualche arma Tipo un fucile d'assalto Ho airdrop? Io ho una pistola, se vuoi Eh, no, grazie E io sono uno scendino Già ne ho 50 di scudone Niente, niente Secondo me andiamo in FIFA adesso Qualcuno vi lascio dire? Sì, Aurelio Aspetta Eh, non ce l'ho Ok Che bella quella meteora Sempre più grossa Vabbè, ora vediamo Aurelio Eccomè E anche la consumazione Dove che Bari l'oltre Regà, ma i drop Non ci sono proprio? Perché a me È meglio non allontanarti Peraz Comunque, se volete C'è un M4 Se qualcuno gli serve L'M4 aspetta Lo sarebbe fucile d'assalto? No Sì Ah, ok Indovinato Attenzione Tutto importante Magari Peraz Culturato, raga Culturatissimo, cazzo Ho stato al mare, raga Ho stato al mare E poi tipo, mi immagino i commenti della gente E' Feraz, ma sei sgrammaticato Ci dice, sarebbe stato Sarebbe, se io avrei stato XT Antti airdrop Minchia, raga Oh, questo qua lo posso prendere io airdrop Raga, la nostra destra, destra, destra No, c'è il distrutto Ma perché distruggono le scale I dannati figli di Raniura Sì, raga, a destra E io non ho armi, cazzo C'è sostanzialmente pompa Ragazzi, il shark Vai, distruggi, distruggi Oh, scaracca È mio Ho rubato uno, scaracca Non avrei voluto Scusami Non avrei Lancia granate, lancia granate E' esposito telecomandato Radio comandato Però ancora non ho un fucile d'assalto Se non troviamo niente di meglio Me lo faccio andare bene Perché mi serve un'arma un pochettino migliore Lì c'è un altro airdrop Soprò l'albero Se vedi qui Se vedi qui Se vedi qui sta qualcosa E spacco l'edrop Ok, dai, grande Ah, perché è bello Fu cita a salto blu Oh, ok Gnazie, grazie Gnazie Forti del pompa Sì Ok, ho inculato un cespuglio Sì, è cinquanta e cinque Mi piace un tipo Ok, l'ho già visto uno a 130 circa Dai, cazzo Chi è col lancia razzi? Non ho idea Boom Dai, airdrop Io so cosa sto fortino Vediamo Scraffata a bevuta Lancia granate leggendario Mi prendo la launch pad Sono a posto, dai Le bende A posto degli esplosivi radio comandati Qui c'è un launch pad Io vado a prendere un altro drop Ah, che bello lo scaracca Siamo 19 contro 9 Siamo 10 in più rispetto agli altri nemici GG Io sono messo bene Io sono messo bene Dai, dai Si può fare, si può fare, regà Ho sbagliato Sperando che non arrivi nessuno da pinnacoli Anche se probabilmente arriveranno tutti quanti da lì Però dettagli Ma sei nel mezzo della fight tu, Marci? Sì Cazzo Dai, andiamo È dato uno Bene, ne mancano quattro Dai, ne mancano quattro Dai, si può fare, si può fare È dato un altro Manca l'ultimo Dove cazzo è? Dove è? È rimasto l'ultimo, gli ultimi due Ah Dai, vittoria reale GG Bella, bella, bella Ora ne facciamo un'altra, casomai È facile È facile Diventa Ferraz Ma il Burger King Fasullo Si 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 Ci è andato Aurelio Ci sono due o tre Che si vede che albanese ruba tutto Mamma mia Non ho niente contro gli albanesi Ma solo contro Aurelio Specifico Perché poi magari mi trovo i commenti brutti Sto arrivando Sto arrivando Sto già ci stanno i dislike di T Chi vuole intendere in tenda Di T.Higer Sì, è un abusivo E comunque È adeguato perfettamente con te Che bello Due vampa fucile Perché non c'è mai limitarlo schifo Va bene Scaracca BAM Mi posso dare l'M4 blu allora, vai Ok C'è così da nulla, scaracca Che vita di merda L'ho trovato dentro da casa Ok, so l'avento Vai Tieni qua Come ti incontri con le amici tuoi? Niente, saltiamo sulle piattaforme Esatto Ci buttiamo dal tetto E ci buttiamo poi sulle piattaforme dopo Molto Molto ignorante C'ho granate e balestre GG Cioè non servono a niente Però vabbè, dai Le granate sì La balestra forse La balestra fa un po' Un po' leggermente schifo assai Voglio dire che possiamo Sì sì, infatti Assolutamente Poi quello è Della Burger King Vabbè Della Burgeria Andato Forse c'è andato a radio Adesso vedi che ci scrivono In commenti Product play No, ora mi contatta Burger King Per una collaborazione Prendi tutto tu Prendi tutto tu Perché tanto sta roba Con due Tranquillo Dov'è la chest? È qua Fermo un attimo Il forte Ho trovato il fortino Vuole granate Prendo il forte? Sì Dai Sì tenete Se avete il fortino Tenete Già preso Già preso Però tranquillo Ancora dentro la safe Raga occhio Che Ora ci faranno tanto male Non lo so Sai? Non so cosa ci conviene È utile di non riscarcela troppo E di giocarcela al campo da calcio Sì dai Perché la safe all'incirca qui si chiuderà Sì O qui O qui Io spero che se il campo da calcio Così almeno Siamo un po' in vantaggio Persone infame Mettiamo una bella trappola nei bagni Una qua Ma si vede la trappola? Eh Se chiudi la porta C'entri Se sei così No Guarda Chiudo la porta Sì Chiudete Sì Se potete Chiudete la porta Eh Raga Mi sono buggato Che cosa è successo? Sì Direi di aspettare Oh Sono qui Sono qui Sono qui Venite qua dentro Andate nei bagni Andate nei bagni Anzi Facciamo così Va Fermi qua Io vado nell'altro Ci guardiamo L'un l'altro Ok dai Io sono pronto col pompa Allora Perché non esiste l'extra Oh Sento gente Sento gente dentro Puttana Eva No Chiudete Sei una merda Marci No comunque Dai panno dentro il bagno Guarda quell'angolo Uno dietro la porta Fati così Vai tu Fera se vai nell'angolo Bravo Così perché se uno apre Non mi vede No 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 Qua dietro Qua dietro qua E fai da tutto qua Ok Perché così Se entra uno Non li sparate Ok Vabbè lo facciamo Entrare un attimo Sì se poi entra e Sì se poi entra e Non muore e sparate Tanto ho preso due Troppo Che sei un pazzo Cioè questo qua È la stanza degli stupri Praticamente Se appena entra uno O muore o muore Non puoi scegliere cosa fare Muori Cioè No muori sì Anche sopporre che la safe Non si chiuderà qua Sai Oh 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 Dai Sento che stanno combattendo GG Anch'io Tanto se ce la camperiamo qua Sicuramente prima o poi ci troveranno Sento tipo costruire Sì Sono qui da me Sì Dai eh Non apriete la porta eh No assolutamente fra C'ho l'ansia raga Che sei le cappate Bastardo È qui da me Ragazzi 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 Uscite ragazzi Uscite Aiutatevi Perfetto Vai 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 Perfetto Dai eh Ragazzi Se qualcuno c'è il bombolone Me lo dia Ho sbagliato Ho sbagliato Ok Ho preso la trappola Raga C'è un'altra trappola Me lo dia Please No No non te lo do Non te lo do Ok Siamo rimasti in set Quindi Cazzo Siamo contro quattro persone Tornate nel bagno Ok Le trappole ci sono messe Raga dove la metto un'altra trappola Ne ho quattro No Ti mettele Ti mettele Sarà bella Complicata Perché siamo contro Siamo contro tre forse eh Sì Siamo contro tre Aspettiamo Stanno scendendo Stanno scendendo Metto una trappola qua All'entrata Se vuoi metterla Sì Però loro si staranno Facendo un fortino Probabilmente Andiamo dove sono Oh oh Attenzione Non sparate Cioè non fate nulla Aspettate che Arrivano Sì Uno sta scendendo Mi sa che è sceso uno eh Metto una trappola qua Aspettate No 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 Perché sennò ti sentono Ok Oddio Oh cazzo Dietro 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 di noi Oddio Dietro di noi Dietro di noi Granata No cazzo Da dietro Da dietro Occhio Dai eh No cazzo Marci ce la fai? No Cazzo Io sono dentro la safe Cioè sono fuori dalla safe Ci schiattiamo No un attimo Un attimo Un attimo Sono morto Dai si può fare Marci Ti prego dimmi di sì Non vi assicuro niente però eh Dai Aspetta 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 Cazzo Ti vuoi dimmi che hai granato qualcosa? Dai eh No Ah Che liscio Liscio Mila ml Su liscio No No cazzo Pusha pusha bro Eh cosa è perso Dietro di te Oh Non ci credo Non ci credo Non ci credo Dai raga Marci che cazzo hai fatto? Oh mamma mia Madonna Dai raga Madonna che culo Marci Grande cazzo Oddio raga Che vittoria reale assurda Mamma mia Tutto sommato oggi c'è andata bene Due partite Due vittorie reali Stiamo migliorando In realtà solamente grazie a Marci Però dettagli Tutto sommato però Mi ritengo soddisfatto Ragazzi vi chiedo di supportare al massimo questo video Come ho già detto pure all'inizio Di entrare nel gruppo discord Dato che è stato rinnovato Ci sono un sacco di cose nuove I giveaway Se sarete più attivi Riceverete pure delle mod gratis Quindi tanta roba Entrate Trovate il link qua sotto in descrizione Link al canale di Marcio Aurelio se vuole spammato qualcosa Io lo spammo Passate pure da TheRiddlesFanPage La pagina che fa meme su di noi Vi prego fatemi un meme di quelli ben fatti Per ringraziarmi Comunque A parte di scherzi Lasciate un piaccio al video Quindi commentate Condividetelo con i vostri amici Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto A tirare la campanella Per avere tutte le notifiche Quelle dei video Entrate nel gruppo Telegram E come ho già detto prima Nel gruppo discord Seguitemi sia su Instagram Sia su Facebook Dove io insieme ad alcuni fan Pubblico dei aggiornamenti Riguardo al canale Niente ragazzi Ringrazio Aurelio e Marcio Per aver partecipato al video Noi ci vediamo In un prossimo video In una prossima live Un saluto da Laferaz Bella Ciao Ciao Ciao